se non fosse per il fatto che ci sono quasi una trentina lavoratori che non percepiscono alcun ammortizzatore da oltre un anno ci sarebbe quasi da dire che la vicenda della mondial gruppo di mirabello monferrato azienda fallita lo scorso anno si arricchite di nuovo capitolo esattamente come la saga di guerra stellare che non pare mai andare alla fine si tratti coloro che non si sono visti oppure sono visti revocare concedere la naspi in quanto secondo l'inps di alessandria non c'erano i requisiti nel novembre dello scorso anno c'era stata dopo che erano stati respinti i ricorsi fatti degli ex lavoratori in sede amministrativa una manifestazione con un presidio molto civile molto e molto concreto davanti alla sede imps di casale monferrato per fare conoscere le loro condizioni in sofferenza c'era stato anche un momento di solidarietà a parte del mondo politico con la presenza di alcuni esponenti dell'amministrazione comunale casalese al presidio con la votazione unanime di un ordine al giorno dall'unione dei comuni c'era in mani solidarietà poi però gli ex lavoratori mondial hanno dovuto prendere la via giudiziale davanti al tribunale di vercelli e proprio davanti al tribunale di vercelli giovedì scorso si è tenuta la prima udienza erano presenti e avviate 17 vertenze da parte della cgl 10 a parte la ciso e una parte la guida con la costituzione in giudizio da parte dell'inps a questo punto il giudice patrizia baici ha disposto alla riunione di tutti i procedimenti in uno solo e ha rinviato per la discussione all'8 novembre prossimo e in quella data ovviamente si procederà lungo un cammino che è ancora abbastanza difficile vedere la fine